Il musulmano con Allah e il creato. Io direi che vi siete persi una cosa in mezzo, che il musulmano con Allah, se stesso e il creato. Perché Allah Azza wa Jal vuole che noi curiamo questo aspetto personale. È fondamentale. Se noi non stiamo bene con noi stessi, non staremo bene nemmeno con gli altri. E se noi non stiamo bene con noi stessi, non troviamo quella pace del cuore in un determinato momento, non potremmo neanche avere un buon contatto con Allah Azza wa Jal. Non potremmo neanche sentire la presenza di Allah Azza wa Jal perché siamo distratti da qualcosa perché noi non ci sentiamo bene. Quindi riformuliamo un po' questo titolo e diciamo e il musulmano con Allah, se stesso e il creato. Scegliere questo tema nel mese di Ramadan non è scontato. Ramadan è questo titolo. Se vogliamo riassumere il mese di Ramadan in un titolo, in un tema, possiamo dire che Ramadan è il musulmano con Allah, se stesso e il creato. Andiamo a vedere un po' come Allah Azza wa Jal e come il profetto Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ci disegnano questo percorso, questo cammino e questa vita che io chiamo sempre e dico che la vita del musulmano è tridimensionale. Queste sono le tre dimensioni della vita di un essere umano in generale, ma di un musulmano in particolar modo. Queste tre dimensioni che il profetto Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ha riassunto in un hadith. E secondo me questo hadith non è un hadith, come dire, rivolto soltanto a giovani, perché il contesto e la storia del hadith ci ricorda una conversazione tra il profetto Sallallahu Alaihi Wasallam e Mu'adun Jabal, un giovane come noi, come tutti, che forse è anche più piccolo, del più piccolo di noi, dovrebbe essere più piccolo all'epoca di molti di noi. Questo hadith cosa dice? Dice il profetto Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam a Mu'adun Jabal Ovvero, temi Allah ovunque e insegui il peccato con la buona opera così che si cancelli e comportati con la gente nel miglior dei modi. Quindi vedete che sono tre dimensioni. La prima dimensione è la dimensione con la trascendenza, con Allah Azza wa Jal, la dimensione spirituale. E quindi temi Allah ovunque. Temi Allah, il concetto del timore. È un concetto strettamente di Ramadan. Ricordiamo il versetto relativo al mese di Ramadan. يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ O voi che credete vi è stato prescritto il digiuno come lo è stato prescritto per i popoli che vi hanno preceduto, e aggiunge forse diverrete timorati. Quindi il concetto del timore, l'obiettivo, la ragione per il quale noi digiuniamo. Il digiuno non è un fine. Quando io digiuno non ho realizzato il fine dell'Islam. Il fine è il timore di Allah Azza wa Jal. E' il concetto base sul quale girano attorno tutte le prescrizioni e tutte le adorazioni. Perché? Se voi fate caso alle prime versetti che sono stati rivelati sul profetto Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam e l'ultimi versetti rivelati sul profetto Sallallahu Alaihi Wasallam avevano come tema principale attaqwa, il timore. Torniamo indietro un pochino il primo versetti E procede con i versetti e poi dice Vedete la parola taqwa tra i primi versetti rivelati sul profetto Sallallahu Alaihi Wasallam. con diverse prove e commenti dei nostri sapienti era il versetto in cui dice O voi che credete temete un giorno nel quale ritornate presso Allah Subhanahu Alaihi Wasallam. Vedete che inizia con il timore e finisce con il timore per dire cosa? Che il timore di Allah Subhanahu Wa Ta'ala è la chiave dell'Islam. È il fine dell'Islam. Quindi le preghiere servono a che cosa? Servono a raggiungere questo stato di devozione quello del temere Allah Azza wa Jail. Il digiuno la stessa cosa. Il pellegrinaggio la stessa cosa. La zakat la stessa cosa. La lettura del Corano. Tutte le adorazioni, tutte le adorazioni canoniche e tutte anche le adorazioni in generale vogliono portarci al timore di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. E uno magari si chiede cosa è il timore di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cosa vuol dire il timore? Attaqwa, che poi tradotto letteralmente come timore, assume un significato di paura. Invece non lo è così. Non è questo il timore. Allah Azza wa Jail vuole che noi lo adoriamo attraverso l'amore. Provate a immaginare un po' quando amate una persona, no? E state molto attenti a quei dettagli che forse potrebbero far arrabbiare quella persona, potrebbero rendere quella persona insoddisfatta dei nostri atti, dei nostri gesti, delle nostre parole. Allora state così molto attenti. Non perché avete paura di quella persona. Magari avete paura di perdere quella persona. Avete paura di non vedere quella luce d'amore negli occhi di quella persona che vi guarda. Non vedete quel compiacimento, quel sorriso di quella persona che vi guarda. E quindi questo è, tra parentesi, il senso del timore di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Quindi dice, temi Allah ovunque. Cosa vuol dire il musulmano con Allah in relazione con questa prima dimensione? Vuol dire la centralità del divino nella vita di un musulmano. La centralità di Allah Azza wa Jail. Quindi Allah è il riferimento. Tutto nella vita arriva dopo Allah Azza wa Jail. Niente arriva prima di Allah Azza wa Jail. E metto in esame i miei desideri, metto in esame le mie richieste, le mie aspirazioni, tutto quello che desideriamo in qualche modo nella vita, mettilo in esame con il volere di Allah Azza wa Jail. Si tratta di mettere in esame se stessi anche confronto a Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Quindi mettere Allah Azza wa Jail al centro delle nostre preoccupazioni, delle nostre priorità. Quali sono le nostre priorità in questo momento? Sono lo studio, sono il lavoro, sono una carriera, una persona, uno che si vuole magari sposare, uno che vuole avere dei figli, uno che vuole, non so, accrescere un po' il suo conto in banca. Quindi sono tutte delle questioni che ci interessano. Ma vanno in contrasto con il volere di Allah Azza wa Jail o no? Quindi c'è uno scontro tra il volere di Allah Azza wa Jail o no? Quindi la centralità di Allah Subhanahu Wa Ta'ala nella tua vita, questa dimensione che il musulmano deve raggiungere attraverso il timore di Allah. Quindi ittaqillaha haythumakunt vuol dire O mio Signore, Tu sei il centro della mia vita. Tu sei il centro della mia vita. Non a caso noi quando diciamo, quando leggiamo nel fiqh, nei libri eccetera della religione, leggiamo il concetto della niya, no? Dell'intenzione. Perché bisogna avere l'intenzione quando si digiuna, quando si prega, quando si fa il hajj? C'è l'intenzione, è una cosa fondamentale. Tra l'altro il hadith che dice Questo hadith fa un hadith proemiale in tutte le opere giuridiche nell'Islam. C'è trovato questo hadith, fa da incipit tutte le opere del Bukhari, i muslimi, i tanti sapienti, che iniziano con questo hadith. Perché è fondamentale? Perché cosa vuol dire? Vuol dire che la tua niya, quindi la tua intenzione, quindi Allah è centrale in quell'opera. Allah non è al margine della tua vita. Prima di fare qualsiasi opera, esaminala. E vedi, questo è un qualcosa che mi avvicina ad Allah SWT, è un qualcosa che mi dà un bonus, mi dà un credito nel mio percorso di vita, nel mio sentiero, oppure è un qualcosa che mi allontana. Tu hai un obiettivo, ecco, la niya è anche un obiettivo. Hai un obiettivo, qual è il tuo obiettivo nella vita? Sicuramente da musulmano dice, il musulmano mira a vivere da musulmano, da credente, per poi quando moriremo, andiamo in paradiso. E questo obiettivo, devi mettere le cose che ti aiutano a camminare per quell'obiettivo, ti aiutano a raggiungere quell'obiettivo. Ecco, Allah SWT ti aiuta a raggiungere quell'obiettivo. Se Allah SWT al centro delle tue opere, del tuo interesse, sappi che tu stai camminando verso la strada giusta. Se Allah SWT non è il primo nella lista delle priorità, sappi che hai sbagliato strada. Abbiamo sbagliato strada. È come voler andare a Milano e invece che andare verso Brescia vado verso Venezia. Non ha senso. Io ho sbagliato strada. Perché mi porta verso Trieste e poi scopro di non essere arrivato. Poi è finita la corsa, è finita la gara. Ecco, questo noi dobbiamo tenerlo a mente, dobbiamo fissarlo e osservarlo come si deve, perché quando ci sveglieremo un giorno sarà troppo tardi. Quindi Allah SWT ha messo le mie priorità. Il timore di Allah SWT vuol dire anche osservare le prescrizioni e gli ordini di Allah SWT. Cosa vuol dire? Allah SWT ci ha detto di pregare. Quindi io prego. Mi ha detto di digiunare. Io digiuno. Mi ha detto di leggere la sua nobile parola, il Corano. Io lo leggo. Mi ha detto di comportarmi bene con i miei genitori. Io lo faccio. Cioè sono tutti degli ordini, sono degli insegnamenti che devo portare nella mia vita. Così io ho raggiunto tutto. Però questo sembra un po' difficile. Perché sembriamo una macchina. Ok, se una persona fa tutto questo senza cadere, senza intralciarsi in una delle cose che vi ho appena citato, allora è una macchina, non è un essere umano. Uno potrebbe dire così. Ed è giusto che sia così. Ed è giusto che qualcuno di noi forse non riesca a portare tutti quegli impegni al cento per cento. E il timore di Allah non vuol dire essere perfetti. Non è la perfezione. Non è la perfezione. Il timore di Allah SWT di tenere presente Allah SWT nei tuoi atti anche quando sbagli. Perché cosa è il perdono? Quando uno sbaglia, quando fa un peccato, quando commette un peccato, ritorna Allah, fare ritorno. Se Allah non è centrale nella tua vita, perché fai il ritorno a Lui? Quindi anche se mentre tu stai sbagliando, mentre tu stai commettendo un peccato, quando ritorni subito vuol dire che Allah è centrale nella tua vita. Forse hai sbagliato, sei stato distratto in qualche modo, però Allah è centrale nella tua vita. Questo non vuole dire, dare il via di andare a fare i peccati, fare quello che ci pare. No, non è questo. Ma quello di dire che il timore non vuol dire la perfezione. E perché Allah SWT dice C'è questo Il paradiso è stato preparato per i timorati. Quindi se i timorati sono perfetti, saranno pochi. E quindi questo paradiso è stato preparato per il 3, per l'1% delle persone. Non è realistico. Ma il timore di Allah SWT, anzi, il profeta SAW gli è stato detto Ya Ayyuhal Nabi Itzaqillah Cioè O profeta Tevi Allah Il profeta SAW è perfetto. Come fa? No. Il timore è un è un è un è un traguardo che si raggiunge giorno per giorno. È un qualcosa è un qualcosa che si coltiva giorno per giorno. Non si raggiunge mai la perfezione. Sempre sempre ognuno ha una sua percentuale. Io magari oggi sono stato timora uno dei timorati del 70%. Il 30% ho sbagliato ma del 70% sono stato giusto. Quindi io cercare di superare la media e di elevarmi piano piano. Questo vuol dire avere presente Allah SWT nella propria vita. E questo ci conduce al passo successivo o al passaggio successivo del hadith che dice وَأَتْبِعِ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَتَمْحُهَا E insegui il peccato con la buona opera così che si cancelli. Questo è relativo al timore. Cosa vuole dirci questo passaggio? Innanzitutto la bellezza della lingua araba quando dice وَأَتْبِ quindi E quindi è relativo. Quindi la prima parte non è distaccata ma è relativa. Non possiamo staccare la dimensione del timore con questa dimensione del quale andremo a parlare adesso. Quindi e insegui il peccato con la buona opera. Allah cosa vuole dirci attraverso questo questo hadith il profeta sallallahu alaihi wa sallam stesso cosa vuole dirci? Che non puoi essere una persona perfetta che sicuramente cadrai nel peccato. Poi tu sei invitato a osservare il timore di Allah in ogni atto quotidiano in ogni piccolo dettaglio del tuo vivere comune però sappi che cadrai nel peccato come non sono stati tutti tutte le persone nella storia anche i devoti anche 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 compagni del profeta i tabi'in anche loro hanno fatto dei peccati ovviamente sono livelli i livelli però vengono sempre considerati dei peccati Cosa dovrei fare in quel momento io da musulmane? Devo deprimermi? No Devo lasciar stare? No E' questo che vuole il shaitan Il shaitan vuole che noi cadiamo nel peccato e poi tralasciamo Allah azzawajal tralasciamo il nostro percorso Come dice un sapiente dice non è non è importante arrivare ma morire mentre cammini No? che se tu muori un giorno mentre cammini verso il bene verso il tuo traguardo non preoccuparti perché Allah azzawajal ti ha scritto tutto quello che avevi intenzione di fare Quindi fare dei peccati questa è la dimensione con se stessi Noi dobbiamo curare questa parte la parte della positività di rimanere positivi nella propria vita Se quest'anno mi è andata male a scuola all'università in un progetto commerciale in un progetto culturale non è andato qualcosa come si deve No io non devo deprimermi ma devo ripartire per eliminare quel peccato per sopprimere quel peccato questo è fondamentale perché il peccato lascia il cuore in uno stato di oscurità quindi lo lascia oscuro come come può essere così il profetto dice quando uno fa un peccato segna un punto nero nel nel suo cuore quindi dei punti neri uno dopo l'altro uno dopo l'altro uno dopo l'altro dopo diventa buio questo cuore immaginate quel bicchiere l'esempio del bicchiere del latte ci mettete un po' dell'inchiostro rovinate il bicchiere non si beve più è la stessa cosa il cuore il cuore è puro però cosa bisogna fare bisogna mettersi lì a pulire subito così non lasciamo le tracce di questo peccato non lasciamo il buio in questo peccato e quindi dice e insegui il peccato con la buona opera così che si cancelli quindi sei tu a decidere se vuoi mantenere questo ritmo di miglioramento di scoperta di se stessi giorno per giorno o no quindi non è una pozione magica non è una ricetta che puoi trovare su internet no è un atto è un atto che devi fare come come attraverso il tuo atto hai raggiunto una un livello di timore anche attraverso il tuo atto riesci a cancellare quei peccati riesci ad eliminarli e sei tu a decidere la tua strada e sei tu a decidere dove andrai quindi quindi la cosa della dimensione con se stessi è importante il profeta Muhammad salallahu alaihi wasallam ci invita di curare questo aspetto curare l'aspetto fisico di tenersi sempre belli anche questo è un aspetto fondamentale quando 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 il profeta salallahu alaihi wasallam parlava del hadith della 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 superbia no che man kane fi qalbihi mit qalu la yid khol jannah man kane fi qalbihi mit qalu darrati min kibur au kama qala salallahu alaihi wasallam cioè il significato del hadith che chi prova un attimo di superbia nel suo cuore no un po' di ego no di sentirsi meglio di tutti gli altri uno dei uno dei compagni del profeta che abu bakar salallahu alaihi wasallam disse il profeta oh rasulallah io uno di qualcuno di noi gli piace vestirsi bene di mettere no un bel abito di essere profumato essere bello gli ha detto il profeta salallahu alaihi wasallam no non è questo che intendo e gli ha detto in questa frase non è per te abu bakar tu che hai hai provi questo timore per allah tu che vivi nel timore in maniera quotidiana non è per te ma perché si usava era un'abitudine che si vestiva un abito molto lungo e lo si trascinava per sentirsi così così più forti più più importanti ecco più nobili nella società meccana all'epoca quindi il profeta salallahu alaihi wasallam vuole tagliare questi concetti vuole eliminare questi concetti la bellezza e il tenersi belli e il curare l'aspetto fisico non c'entra con il voler farsi vedere eccetera no ma siamo tenuti a curare questo aspetto fisico anche l'aspetto morale quello di nutrire il proprio intelletto e l'aspetto insomma spirituale ecco curare questo aspetto attraverso le adorazioni attraverso le letture del Corano tutte queste cose servono in primis alla persona stessa non servono ad Allah subhanahu wa ta'ala perché il peccato ricade in primis sulla persona stessa ci sentiamo così depressi nulla facenti immaginate un po' quando voi vi svegliate al fajr pregate fate vi sentite così rilassati belli rilassati dormite e così siete contenti perché avete fatto un dovere quindi quando uno adempia i suoi doveri sente la tranquillità sente quella pace invece quando manca un po' del suo dovere quando non fa quello che deve fare anzi forse va il contrario allora lì che il peccato ricade su noi stessi e quindi noi siamo chiamati a curare questa dimensione quindi la prima dimensione la dimensione con Allah subhanahu wa ta'ala la seconda dimensione dimensione con se stessi e la terza dimensione la dimensione con il creato con la gente ma andiamo a espandere questa dimensione a farla diventare una dimensione con il creato ecco noi come musulmani crediamo che l'essere umano è un vicario un califo nella terra è un luogo temente cosa vuol dire vuol dire che non è il signore del mondo è un signore nel mondo si dice che Allah è il signore del mondo invece l'uomo è un signore nel mondo quindi ha avuto questo privilegio e abbiamo onorato i figli di Adamo li abbiamo privilegiati li abbiamo condotti sul mare e sulla terra li abbiamo privilegiati su tante altre delle nostre creature quindi l'essere umano figli di Adamo hanno questo privilegio privilegio anche attraverso l'intelletto attraverso il sapere la conoscenza ricordate il versetto del surat al-baqara li ha fatto conoscere gli ha dato il sapere il sapere che ha dato a Adam e non alle altre creature però questo deve portare l'essere umano a salvaguardare il mondo dove si trova Allah azzawajal gli ha concesso il mondo il creato lo ha messo a disposizione ha messo a disposizione il suo creato e ha messo a sua disposizione tutto quello che è nei cieli e sulla terra provate a pensare tutte le ricchezze che ci sono sono a disposizione dell'uomo però l'uomo non deve abusare di questa di questa creatura di questa ricchezza di questo privilegio anzi è chiamato a curare questa ricchezza a farla crescere no? imara cosa vuol dire imara in arabo imara è un qualcosa che nasce che si costruisce dalla terra e poi si innalzano i piani di questo palazzo no? imara vuol dire palazzo in linguaggio comune imara un palazzo e costruire vuol dire bisogna costruire in questo mondo e non e non distruggere in questo mondo non corrompere e non corrompete sulla terra o nella terra dopo che è stata resa prospe quindi l'uomo non è il suo compito quello di corrompere ma quello di mettere a posto quello di fare del bene in questa vita in questo mondo noi come noi come esseri umani apparteniamo a quella che quella che si chiama la famiglia della creazione e anni la famiglia della creazione noi siamo 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 creati siamo stati creati da Allah come gli animali sono creatori di Allah come le montagne come i fiumi come i cieli come tutto ciò che vedete e che non vedete tutti sono creatori di Allah subhanahu wa ta'ala cosa ci accomuna? ci accomuna questa famiglia della creazione ma anche la famiglia della spiritualità della fede noi apparteniamo alla stessa famiglia con anche con gli animali non vi è un essere che non glorifica Allah subhanahu wa ta'ala che non loda Allah subhanahu wa ta'ala pensate pensate le cose che avete accanto pensate a quel tavolo che ci avete accanto lì sta facendo non c'è un essere non c'è un essere qualsiasi cosa la pianta che avete davanti a casa o avete nel bancone l'animale che vedete tutto quello che nella nostra vita quello che vediamo quello che non vediamo e prova glorie per Allah subhanahu wa ta'ala quindi facciamo parte della stessa famiglia il nostro compito è quello di corrompere questa famiglia? assolutamente no ma quello di curare questa famiglia in questa famiglia ci sono ci sono gli umani ci sono gli animali ci sono le montagne gli alberi noi siamo chiamati a curare questo 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 aspetto e questo il nostro compito il nostro compito il nostro messaggio questo è il messaggio dell'islam qui certe volte i musulmani comprendono questo versetto in un modo secondo me abbastanza errato perché? perché ritengono che il profeta solamente il profeta è il mandato con misericordia per tutti i mondi no lui è il messaggero quindi porta un messaggio quindi il suo messaggio è misericordia per tutti i mondi quindi i portatori del messaggio del profeta devono svolgere questa funzione e devono portare avanti questa missione quello di portare la misericordia ovunque la misericordia intellettuale la misericordia attraverso la trasmissione del messaggio del profeta Muhammad salallahu alaihi wa sallam la misericordia attraverso la solidarietà la solidarietà verso i più poveri verso i più deboli verso i vulnerabili questo questa è la misericordia di Allah subhanahu wa ta'ala che noi dobbiamo diffondere la misericordia verso gli altri esseri viventi verso il mondo questa misericordia che noi dovremmo portare quindi dovremmo comprenderla sotto questo punto di vista in questa ottica questa è la dimensione e comportati con la gente nel migliore dei modi e quindi qui non ha specificato se sono musulmani o meno se sono credenti o meno ma il comportamento va al di là della persona se è credente o meno e pensate un po' al hadith del profetto salallahu alaihi wa sallam che è veramente molto 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 bello quando dice se arriva il giorno del giudizio e qualcuno di voi ha una pianta in mano pensate provate a immaginare arriva il giorno del giudizio la scena del giorno del giudizio la fine del mondo vedete piante che vedete che piante che volano pietre che volano la fine della terra cioè la fine del mondo pensate immaginate un po' la fine del mondo quindi in questo mondo non ci sarà più una vita di qualsiasi essere in questo momento il profetto salallahu alaihi wa sallam cosa dice dice si arriva il giorno del giudizio la fine del mondo e qualcuno di voi ancora in vita qualcuno di voi ha una pianta in mano che la semini uno potrebbe dire ma se è la fine del mondo che senso ha seminare una pianta non ci saranno persone che andranno a trarre un beneficio da questa pianta farà dei frutti non ci saranno uccelli che che faranno il loro nido in questa pianta quando diventerà un albero non c'è non ci sarà niente di questo e perché il profetto salallahu alaihi wa sallam per onorare la vita per onorare l'opera il fare per onorare l'essere umano per onorare il mondo dargli onore quindi il mio compito non è quello di fare le cose per me stesso e questo è un messaggio con il quale voglio un po' chiudere questa mia parola voi vi chiamate generazione responsabile quindi non siete una generazione ma generazioni che arriveranno dopo quindi voi portate voi portate il messaggio di quella generazione che vi ha preceduto che ha preparato tutto questo in cui vivete questo piano questo progetto questa questo questi insegnamenti nel quale vivete c'è una generazione prima che ha preso la responsabilità e voi non pensate a voi stessi ma pensate alla generazione che arriverà dopo e che questo messaggio deve arrivare a quella generazione è un messaggio puro che continua questo messaggio di misericordia continua questa tridimensionalità se vogliamo dire questo questo messaggio con Allah con se stessi con la gente questo è l'Islam e questo è il messaggio del profeta Muhammad salallahu alaihi wasallam che nessuno deve ridurre in delle atti di culto delle opere occasionali o delle celebrazioni annuali come il mese di Ramadan noi nel mese di Ramadan dovremo uscire con una versione migliore di noi stessi per poter passare il resto dell'anno in questa ottica cambiare al meglio se non arriva Ramadan il mese del cambiamento che cambia il mondo intero se le leggi universali del mondo che governano il mondo leggi universali le leggi divine ovviamente che governano questo sistema mondiale questo questo mondo questa organizzazione divina perfetta se questo mondo cambia se questo universo cambia nel mese di Ramadan perché noi non cambiamo il profetto sallallahu alaihi wa sallam dice quando arriva la prima notte del mese di Ramadan si spalancano le porte del paradiso e si serrano si chiudono le porte dell'inferno e si incatenano i demoni quindi vedete che c'è un cambiamento a livello universale che noi dobbiamo cogliere che noi dobbiamo capire concepire come si deve quindi dobbiamo cambiare e cambiare è il meglio e quindi vivere con questa con queste tre dimensioni con Allah come riferimento Allah centrale nelle mie scelte nella mia vita Allah è alla prima è il primo nella lista delle mie priorità me stesso curo il mio aspetto fisicamente a livello intellettuale a livello spirituale così posso anche agire in maniera positiva verso gli altri e vedete che queste tre dimensioni non sono distaccate dice quindi c'è una interdipendenza da queste tre dimensioni una dimensione serve l'altra ma la prima dimensione che porta alle altre dimensioni se noi siamo in un ottimo rapporto con Allah se Allah subhanahu wa ta'ala è centrale nella nostra vita di conseguenza staremo bene con noi stessi e di conseguenza saremo degli ottimi cittadini delle ottime persone che sono a servizio della creatura di Allah subhanahu wa ta'ala e a servizio della gente se vedete o se ritenete una persona in un ottimo rapporto con Allah subhanahu wa ta'ala però nei confronti della gente dell'umanità ha problemi vedete che ha problemi prima con Allah subhanahu wa ta'ala e non con l'umanità perché Allah subhanahu wa ta'ala il suo amore e il suo timore non genera che il bene e non genera che cose positive nella vita dell'uomo nella vita del credente in particolar modo quindi chiudo qua e aspetto magari le vostre domande grazie mille per la conferenza è stata molto esaustiva e onestamente io personalmente ho imparato anche tantissime altre cose per quanto riguarda conoscere se stessi per confrontarsi anche con i fattori esterni che ci aspettano nella vita quotidiana adesso se ci sono domande anche riflessioni anche riflessioni anche pareri insomma benvenuti preferisci in caso ci sono domande che le leggo una per una e rispondi o ne leggo una serie facciamo una per una visto che adesso non ci sono ancora domande allora la prima domanda la prima domanda è Fatiha che dice assalamualaikum innanzitutto vorrei farti complimenti e ringraziare per l'interessantissima conferenza grazie successivamente vorrei chiedere hai detto che una volta commesso un peccato bisogna rimediare subito per pulire il proprio cuore e non lasciare che l'errore lo infetti ecco molto spesso l'essere umano nonostante correghe i suoi comportamenti e si ripromette di non ricadere nell'errore si lascia andare senza di colpa e continua impertinto a struggersi l'animo nonostante sia avvenuta una teuba ecco che consiglio daresti a quelle persone che nonostante si pentono e cercano di compiacere Allah faticano a trovare la positività allora partiamo dal presupposto che a teuba a teuba non è un un chiedere scusa e basta no ma è un uno è un ritorno d'Allah subhanahu wa ta'ala in maniera completa no riconoscendo il riconoscendo l'errore il peccato e facendo un'intenzione di non voler ritornare di nuovo al peccato e munendosi anche dei mezzi che non ti portano verso nuovamente verso quel peccato è giusto che alcune persone riprendono sempre ed è umano riprende sempre il flashback delle cose che ha fatto in passato e si pente però Allah ci ha dato l'esenzione per non fare per non farci così tanti problemi che Lui ci perdona se noi e qui non ha specificato chi è la sua qualità se è un imam se è un sheikh se è un dottore se è un medico non ha specificato tutto questo ma vuole solo che noi ritorniamo a lui quindi di ritornare ad Allah subhanahu wa ta'ala pensate un po' vi faccio questo esempio che forse è anche un po' più duro per farvi capire se una persona quando fa una tauba Allah subhanahu wa ta'ala accetta una ricordate la storia di una che vissuto nell'epoca del profetto salallahu alaihi wa ta'ala e ha commesso uno dei gravi peccati nell'islam che è la fornicazione e quindi il il per potersi purificare per poter ritornare ad Allah subhanahu wa ta'ala c'era il castigo quello della lapidazione no lapidazione a morte addirittura lapidazione a morte quindi questa 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 signora arriva e arriva con incinta ovviamente e il profetto salallahu alaihi wa ta'ala mi dice vai finché partorisci lei quando partorisce ritorna vedete così non è che è andata per trovare delle scorciatoie per non pagare tra parentesi la multa no ma ha insistito perché lei sta cercando la purificazione ritorna dopo aver parturito dice eccomi profetta purificami io sono ritornata vedete questa volontà e buona intenzione nella purificazione il profetto salallahu alaihi wa ta'ala cosa fa gli dice ritorna fino a finché finisci l'allattamento dalla prima cioè dalla prima volta che è venuta immaginiamo un po' un anno dopo due di allattamento tre barra quattro stiamo parlando di quattro anni e lei insiste per ritornare per la purificazione e viene 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 eseguito l'ordine di fare la lapidazione da parte del profetto salallahu alaihi wa sallam e vedete che il profetto non voleva se avesse voluto poteva farlo già dall'inizio ma l'idea non è quella di sanzionare le persone di di metterle in castigo ma quella di purificarle quindi se lei se fosse purificata nella prima volta se fosse magari no se 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 decidesse di andare da qualche altra parte oppure di non ritornare di più il profetto non è che non è che avrebbe mandato dei soldati alla polizia e carabiniere a casa sua per poterla recuperare no ma non avrebbe fatto questo cosa succede dopo aver fatto la lapidazione un compagno del profetto aveva tra parentesi sputato e nel senso per dire maledetta signora eccetera una cosa del genere e allora il profetto ha detto guardate che la tauba il ritorno di questa persona se se viene suddiviso sulla gente della medina avrebbe coperto tutta la medina quindi la sua la sua purificazione avrebbe ricoperto tutti quanti no vale per tutti quindi la sua purificazione è stata così immensa questo per dire cosa che la persona non deve ritornare sempre indietro mai girarsi dietro non guardare sempre avanti e che Allah accetta quando uno decide di purificarsi ovviamente più si è a contatto con i propri fratelli le proprie sorelle più si è a contatto con la propria famiglia spirituale più riesce a uscire da quel buco però se ci lasciamo al al shaitan alla nostra nafs sicuramente non ne usciremo fuori un'altra domanda sì c'è Zekheria per la risposta un'altra domanda di Zekheria Barakallahu per la conferenza quando si parla del musulmano con le creature si parla anche nel riuscire a perdonare le persone che ci hanno fatto un torto quindi volevo chiederti come si fa a perdonare queste persone ah ok è ottimo è una bella una bella domanda grazie intanto grazie a voi di aver apprezzato il il discorso quindi come fare a perdonare le persone ecco il perdono è una delle delle una delle qualità meravigliose saper perdonare la gente semplicemente noi siamo tutti degli esseri umani e possiamo benissimo sbagliare Allah subhanahu wa ta'ala è il perdonatore noi vogliamo andare ad Allah subhanahu wa ta'ala essere perdonati come lo vogliamo per noi stessi lo vogliamo anche per le persone ovviamente è difficile non è una non è una cosa facile è una grande impresa perdonare qualcuno che sicuramente ognuno di noi ha un'esperienza insomma brutta con qualcuno che gli ha lasciato una ferita e non riesce magari non riesce a perdonare però quando se perdonate quando perdonate non fatelo per la persona stessa ma fatelo per Allah subhanahu wa ta'ala Allah il perdonatore e chiedete ad Allah subhanahu wa ta'ala chi vi perdoni perché se Allah subhanahu wa ta'ala svelasse i nostri peccati come dice qualcuno che noi puzzeremo cioè faremo una puzza se i peccati avrebbero una puzza veramente sarebbe terribile perché ognuno di noi vive con i suoi peccati vive circondato dai suoi peccati se se uno perdona è una una cosa molto bella e Allah subhanahu wa ta'ala riconosce questo perdono e sarà più generoso perché perdono vuol dire generosità quando andiamo verso Allah subhanahu wa ta'ala sarà ancora più generoso di noi quindi quello che invito voi e me stesso di riflettere di pensare che questa vita non vale niente e se voi perdonate le persone Allah subhanahu wa ta'ala sicuramente vi perdono la prossima domanda è di Iman che dice volevo chiedere per chi invece non sta bene con se stesso per esempio soffre di depressione e vede come unica via di scampo il suicidio come dovrebbe rapportarsi con se stesso con Allah e con l'Islam in generale ok allora la questione della depressione è uno dei problemi attuali del mondo tanti suicidi sono causati dalla depressione però mi viene strano come un credente possa vivere in depressione non non riesco a comprenderlo io personalmente che una persona possa vivere in depressione quando crede in Allah subhanahu wa ta'ala crede che tutto ciò che accade è sotto il volere di Allah subhanahu wa ta'ala e questa è la chiave tutto quello che accade è sotto il volere di Allah subhanahu wa ta'ala quindi uno non deve mai andare in depressione c'è depressione ovviamente qualcuno potrebbe anche rimanere giù di morale qualche giorno quindi capita non è non è una cosa però però depressione che uno vive un anno due tre quattro anni in depressione questo è terribile quindi dove è la presenza di Allah subhanahu wa ta'ala nella sua vita quindi essere essere depressi è contradditoriale con la fede perché la fede richiama la positività richiama il star bene con si stessi e che tutto nelle mani di Allah subhanahu wa ta'ala metti tutto nelle mani di Allah subhanahu wa ta'ala sei stai sicuro ovviamente fai del tuo dovere fai del tuo meglio per uscire dallo stato in cui ti trovi ma butta tutto nelle mani di Allah subhanahu wa ta'ala e ripeto se noi miglioriamo il nostro rapporto con Allah subhanahu wa ta'ala sicuramente quello ricade sul nostro rapporto con noi stessi sicuramente questa depressione non troverà posto nei nostri cuori nelle nostre menti però se il nostro rapporto è debole con Allah subhanahu wa ta'ala vi faccio vi faccio un esempio se una persona non risponde alle preghiere canoniche in determinati orari se non legge la parola di Allah subhanahu wa ta'ala se non si mette a fare adcar cinque minuti con piena serenità dicendo alhamdulillah chiudendo gli occhi immaginando l'universo di Allah subhanahu wa ta'ala immaginando la sua grazia riconoscendo i suoi doni se io non faccio questo sicuramente cadrò nella depressione però se io sto lì concentrato con nel mio piccolo cerchio fidatevi che non ne usciremo fuori non pensate all'interno del vostro cerchio allargate il cerchio più allarghi il cerchio più guardi la persona come stanno la gente come sta più guardi i deboli nel mondo come stanno più trovi più trovi i suoi doni ecco la prossima domanda ma se una persona ti fa un torto molto grave e non se ne pente devo comunque cercare di risolvere posso rispondervi una risposta a chi chi mi lascia dietro lo lascio indietro questa è la mia risposta cioè se una persona fa un torto e non se ne pente ed è convinta di quel basta bisogna lasciarla stare è inutile è inutile starle indietro perché una persona non è convinta di aver di aver sbagliato ecco io ho una domanda personale per quanto riguarda la conferenza avevi detto che innanzitutto bisogna cioè bisogna costruire se stessi in modo che si possono affrontare gli vari step nella vita come hai detto magari una persona obiettivo che vuole studiare oppure vuole sposarsi e tutto il resto come si fa a implementare Takua in tutte le varie azioni che si vogliono fare perché molto spesso le persone tendono a pensare ok lo faccio e non si può ad esempio la questione del Takua del Nia non dice inshallah come cercare di aiutare se stessi di ricordarsi ancora di più questi punti che ci hai citato nella conferenza sì lo ripeto uno quando decide di fare una cosa si ferma un attimo si ferma un attimo e si chiede perché sto facendo questo atto lo sto facendo per me o per qualcuno o per Allah subhanahu wa ta'ala questo è il timore di Allah subhanahu wa ta'ala questa è la l'ania che devo portarmi dietro che io quando quando ad esempio questa conferenza sono stato invitato da parte vostra perché sono qui io cioè ci ho pensato un attimino prima di venire qui sono qui per per passare del tempo oppure per dare un giusto un contributo ai miei fratelli e alle mie sorelle quindi questa domanda che ci ci dobbiamo fare assolutamente e c'è una regola che dice che la 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 buona opera porta alla buona opera no quindi una volta che hai fatto una buona opera una cosa buona ti porta ad un'altra cosa più buona ancora no una buona opera genera un'altra buona opera questa è la regola quindi appunto la niya la dobbiamo tenere presente sempre guardate fatevi sempre questo momento di esami di coscienza come dice Amal fermatevi un attimino e vedete quello che stiamo facendo è giusto non è giusto lo stiamo facendo per qualcuno per gli altri per noi stessi dobbiamo un po' fare questo esame di coscienza ed è questo il vero timore di Allah subhanahu wa ta'ala e ritorno a una cosa molto molto breve quando dice Allah dice il profeta salallahu alaihi wa sallam questa parola indica il luogo e il tempo con una parola questo termine quindi quindi ovunque ti trovi quindi sei con GR sei con non so con qualsiasi non è perché io solo in un certo contesto io devo osservare il timore di Allah subhanahu wa ta'ala no ovunque perché tu sei il portatore di messaggio e il portatore di messaggio non lo delimita né tempo né luogo quindi che io mi trovo in Cina o mi trovo in Marocco o mi trovo in Tunisia io mi trovo in Italia la stessa cosa io ho un portatore di messaggio lo devo portare ovunque mi trovo c'era una domanda cioè tra l'altro mi serve io sto leggendo a te non serve niente scherzo allora leggi leggi la domanda che non vedo bene era in anonimo può essere può essere può essere che ti sia risultato solo a te perché allora dice all'inizio della conferenza hai parlato di conoscere anche se stessi ma risulta veramente difficile a volte giorno per giorno vieni a conoscere di nuove parti di te stesso ottimo che aspetti cattivi non buoni come si riesce ad accontentare questo è andare avanti anche se sono anche se sono cose che fanno parte di te ecco forse anche un po' quello che dicevo prima devo essere in un esame continuo di me stesso ogni giorno scopri una cosa di te scopri di magari forse anche chi è più più giovani di me magari a 15 16 18 anni cominci a vedere dei cambiamenti e vedrete anche quando avrete 30 anni vedrete che la visione del mondo cambia la visione di voi stessi su voi stessi cambia quindi io devo cercare di adattarmi con questi cambiamenti ma la mia visione spirituale intellettuale tra parentesi non cambia cioè i miei valori i miei principi rimangono quelli quindi io devo addestrare questa 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 questo mio essere nel rispetto dei miei principi e dei miei valori ok quindi se come dicevo prima se vanno a scontrarsi con il volere di Allah subhanahu wa ta'ala con il il metodo che Allah subhanahu wa ta'ala ha disegnato per i credenti per i musulmani con il quale vivere in questa vita io devo devo fare un passo indietro devo fermarmi e capire cosa voglio fare cosa voglio migliorare di me stesso ad esempio faccio un piccolo esempio voi siete magari agli superiori prendete la maturità e volete magari chi vuole anche andare nel mondo del lavoro e chi vuole andare all'università ma chi vuole lavorare e studiare contemporaneamente e vede che il mondo del lavoro ricerca certe qualità bisogna avere certe abilità e cerca di acquistare queste qualità acquistare queste abilità per poter essere all'altezza del mondo del lavoro all'altezza della società di migliorare ad esempio oggigiorno la lingua la lingua franca è l'inglese no? e quindi chi si sente fuori da cioè non non capisce l'inglese o in qualche modo non riesce a decodificare questa lingua si sente indietro e quindi fa dei corsi eccetera e quindi parte da una mancanza però migliora se stesso per poter essere all'altezza della richiesta della società della richiesta sociale no? come le altre cose nel imparare non so l'informatica essere aggiornati eccetera questo lo richiede lo richiede l'attualità e penso che noi dovremmo addestrare noi stessi andando avanti con l'età scopriamo sempre cose nuove e non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo quindi avere una chiara la nostra bussola avere chiara il nostro obiettivo la nostra qibla tra parentesi la nostra visione e quando è chiara sicuramente riscontreremo dei problemi in noi stessi ma inshallah riusciremo ad addestrare noi stessi assieme con l'aiuto dei nostri fratelli e delle nostre sorelle io vi faccio però questa parentesi a cosa serve e questo io voglio essere sincero a cosa serve chiamarsi fratelli e sorelle e far parte di un gruppo far parte di una famiglia spirituale se io non se mio fratello cioè se io non faccio lo specchio per mio fratello per la mia sorella devo essere sincero io ho mia sorella mio fratello ok vedi vedi cose sbagliate ok fratello questa cosa se riesci da migliorare ma non è che lo devo dire in pubblico c'è questa cosa che è cambiata in te cerca di migliorarla ma con gentilezza con un linguaggio cortese e anche dalla parte dei maschi che la parte delle femmine e senza che senza che ce la prendiamo con gli altri no e chi fa questo consiglio chi 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 prende l'iniziativa lui la deve prendere per per rimproverare il proprio fratello no ma per vederlo la persona più bella del mondo per vederlo la persona migliore nel nel mondo quindi voglio essere migliore ma vorrei vedere anche mio fratello migliore quindi queste queste cose sicuramente ci aiutano a superare quindi non lasciate nessuno da solo state assieme fratelli e sorelle ognuno e consultatevi a vicenda perché così potete superare questi estacoli che avete citato qualche altra domanda ok sì c'è una domanda ma se qualcosa ci fa stare male ci fa stare male è meglio reagire o avere pazienza ok io per la piccola esperienza che ho io consiglio sempre se qualcosa ti fa star male intanto riflettici un pochino prima di rispondere magari a una ad esempio se qualcuno mi ha fatto star male con una parola intanto rifletto questa persona quanto pesa per me pesa zero pesa dieci pesa venti allora in base a quello spendo la mia energia intellettuale e il mio tempo per poter risolvere la cosa per poter reagire ma se questa persona cioè non mi fa né caldo né freddo perché io devo spendere energia e tempo e tanto no questa è la prima cosa da fare quindi se quella persona mi è così cara allora rifletto se questa persona mi interessa davvero allora la mia reazione deve essere anche all'altezza di questo voler bene quindi non è che devo quindi riscambiare tra parentesi il male con il male no c'è Allah subhanahu wa ta'ala dice che discutete con la gente del libro con il miglior modo con la maniera migliore questo quando si tratta di uno che non è un tuo compagno nella tua fede no non è un non è un credente nella tua fede figuriamoci in uno che condivide con te il messaggio forse la lingua l'appartenenza alla stessa comunità forse anche alla stessa nazione quindi devo cercare il modo migliore per poter reagire e di e di essere no e di essere migliore se se si è comportato male nei miei confronti io devo comportarmi bene nei suoi confronti ovviamente senza che lui mi manchi di rispetto quindi la prima cosa pesate la persona che avete davanti e se quella persona vale qualcosa reagite con saggezza così non perdete la persona perché potete perderla la persona e e poi la persona che 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 perderete perderà se stessa perché voi siete voi siete quella luce che illumina quella persona di tanto in tanto attraverso attraverso magari le vostre riunioni eccetera e quindi questa persona se la lasciate tra partenza sceitana la sua nafs cade di nuovo nello stesso errore nello stesso peccato quindi dobbiamo non perdere le persone ma recuperarle sempre se queste persone dimostrano una buona volontà bene bene grazie grazie intanto ti ringrazio per aver accolto la nostra come sempre la nostra richiesta del tuo supporto e quindi e ti ringrazio per la bellissima conferenza e per insomma la modalità e il modo e il trasporto con cui sempre ci presenti queste tematiche niente il mio era più un intervento un ragionamento quanto più pratico visto che diverse domande sono bene o male hanno toccato l'aspetto pratico della cosa sì e soprattutto del come superare una situazione una condizione in cui si è giustamente ha analizzato l'aspetto dal punto di vista religioso io volevo anche per esperienza e per formazione darvi dei consigli di come superare un momento difficile in generale ok se abbiamo commesso un peccato come ha detto il bersag sta a far come è prescritto come deve essere fatto e il rischio come citava qualcuno dei ragazzi è quello di si far essere in una scondizione di totale pentimento ma avere ancora quel reminder del peccato dell'errore che si è fatto e se si è peccato magari anche un qualcosa di negativo che colpisce le nostre vite una morte un incidente un esame non superato e via dicendo vi consiglio sempre quanto prima possibile di proiettarvi a vivere quel momento lì ma tra un anno due anni dieci anni per quali motivo perché si suol dire che il tempo è la miglior cora di qualsiasi cosa e effettivamente se ci pensiamo è un po' stupido è un po' inutile perdere tempo a flaggellarsi in questo momento dove invece abbiamo bisogno di tutte le risorse per poter riprendere e rimettersi in gioco e perdere tempo a lamentarsi oppure a soffrire di quella cosa che ci è venuta e diversi post consigliano proprio questa pratica pensate a quell'evento però con la testa tra dieci anni se adesso vi chiedessi la peggior cosa che vi è successa nel vostro passato e magari la ricordate sicuramente in questo momento non gli dareste lo stesso peso che gli avrete dato nel tempo passato quindi in questo modo si riesce un attimino a alleviare quel dolore e capire che comunque sia un momento storico un periodo che tra poco tra non molto passerà e che il tempo in Sardà guarirà il tutto e la cosa migliore è proprio come ho detto riuscire a proiettarsi un po' nel futuro e questo è anche la base della nostra religione perché noi sappiamo benissimo che qualsiasi cosa ci capita è perché l'altra nottele ce l'ha prescritta quindi con questa convinzione e con questo metodo sicuramente qualsiasi ostacolo si possa presentare ok dargli il giusto peso ok dargli farne attenzione ok farne ammenda ma non perdersi perché tra l'altro seitan su queste file si muove sulle file del del rimorso delle persone e del far sentire le persone che sono tra virgolette ormai una causa persa grazie grazie tu sei molto più pratico di me ciao comunque grazie a Dille per sì per questa osservazione ma anche per avermi ringraziato di aver risposto all'invito e sai benissimo che a me non serve invito basta un messaggino e via vedo che non ci sono domande sulla chat non ci sono non penso ecco penso che abbiamo finito esatto bene grazie grazie di nuovo per l'invito e come sapete benissimo io ci sono sempre inshallah mi permette Adil di fare un po' di pubblicità per me stesso allora io con dei fratelli abbiamo avviato un progetto che si chiama Lampadis Media nel quale abbiamo messo un progetto per questo Ramadan programma che si chiama il versetto racconta che troverete su Facebook Instagram YouTube quindi è un versetto adesso vedremo dipendere le puntate che riusciremo a registrare una riflessione su un versetto tirando fuori delle nozioni che magari non sono così classiche che magari potete potete trovare su internet eccetera ma sono delle letture oso dire innocenti del Corano per renderlo un po' più un po' più un po' più vicino a noi come generazione e di vederlo con una lettura diversa ritengo sia interessante che può essere dispunto per voi anche per i vostri progetti futuri quindi vi invito a guardarlo e seguirlo e dirmi anche i vostri pareri inshallah la piattaforma si chiama Lampadis Media che troverete su Facebook Instagram YouTube e anche Twitter abbiamo fatto il sito oggi e quindi insomma così si parte inshallah Barak al-Makfiq come Jazakum l'Akhina Barak al-Makfiq per la bellissima conferenza grazie inoltre volevo ricordare l'appuntamento di giovedì con Badrattin un'infermiere sui benefici del Ramadan che terremo come al solito su Zoom e su tutte le attività che come generazioni responsabili abbiamo nelle diverse piattaforme social quali le conferenze appunto che stiamo facendo le pillole di Ramadan che ogni giorno escono su YouTube e su Instagram le varie attività sui social che stiamo portando avanti su generazioni responsabili e il progetto Train Your Fate con il quale ogni settimana inviamo un planner a tutti i richiedenti Jazakumullah ora passo la parola a Maria Masri che ci farà a Duae al-Khita e la parola a Duae al-Khita e la parola a Duae al-Khita e la parola a Duae al-Khita a Duae al-Khita a Duae al-Khita ringraziamo tutti i participanti quindi di nuovo grazie abduo per questa bellissima a Duae al-Khita a Duae al-Khita assalamualaikum 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 al-Khita al-Khita Grazie a tutti. Si visita sulla nostra pagina Facebook, Instagram e sul canale YouTube Generazioni Responsabili.